Sempre come optional, i vetri, li preferite elettrici o a manovra? Ma hai donato un modello a base che tiene il tapparello vicino che le deve alzare prima partita. Ma hai donato un modello a base che tiene il tapparello vicino che le deve alzare prima partita. Ma hai donato un modello a base che le deve alzare prima partita. Mani nelle mani vedo due ragazzi ingenui dentro un mondo di canzoni e di poesia. Domani noi domani... ... ... ... ...